Una delle cose cui bisogna fare attenzione quando si fa enduro è anche la manutenzione e la pulizia del filtro dell'aria Ci sono un sacco di video su internet quindi non me ne sto per fare uno nuovo ma semplicemente io Tempo fa ho detto ma che palle star qua, togliere la sella, smontare il filtro, metterlo nelle bacinelle, pulirlo, sciacquarlo, farlo asciugare Quasi quasi faccio prima comprarne uno nuovo e cambiarlo ogni volta che mi serve Allora cosa faccio, sono andato online e trovo questi filtri dell'Athena che costano veramente poco Costano poco, li tratto anche con il loro olio fatto apposta per i filtri e dico avrò raggiunto un buon compromesso E invece no, ma che roba, questo è un filtro dell'Athena, si accettano contro battute, contro mosse del produttore Ma guarda che roba, ce l'avrò usato una volta, se va bene va qua tutto rovinato, se sta già sfaldando, se sta già perdendo tutto Quindi costerà sì forse 10 euro ma li vale anche tutti, cioè vale veramente poco Un filtro proprio si sta rovinando dopo un'uscita neanche Bravi quella dell'Athena, quindi ragazzi miei, se vedete online questi filtri Provate a chiedere al produttore, magari sono stato sfortunato io ma non mi sembra che valgano un granché Quindi ripeto, produttore Athena, se ci sei, se ci vedi, aspettiamo la tua contromossa Ciao 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 Ciao